E buon pomeriggio, ben ritrovati alle corse pomeridiano dall'Ippodromo di Agnano. Si inizia già con una bella tre anni sul miglio, cavalli affidati ai gentlemen. Non corri numero tre, Uzzana Jet, ne rimangono in dieci. Quindi viene a mancare il rapporto di scuderia, netto favorito universo. Si rivede con piacere il dottorino Clare, impreziosito anche dall'altro dottor Corrado. Insomma, questi gentlemen, veramente alla grande. E dopo uno stop di un certo periodo, c'è stato un po' di go al Garigliano. E oggi rivediamo con piacere il ritorno di Ernesto Clare. Guida ubertosa. Il lineamento completato, lontano lotto, che poi si ritrae via la macchina. Si lotta per il comando, poi emerge ubertosa proprio con all'argueric pisano di dentro una BG King. Scende la targata Jet, e così cavalli che affrontano la piegata. Lancio che se ne va in tredici e quattro, ubertosa a dettare i tempi. Si va, viene via subito universo, ma viene anticipato da una BG, che poi ritorna buona buona lungo i paletti. Si completano i quattrocento, i due dottorini insieme a borbottare, passa l'SM del dottor Corrado. E dopo quattrocento, vintinove addirittura al comando. Si completano i suoi cento, piuttosto violenti, nell'ordine del quaranta due e sei da une undici. E una volta al comando, il targato SM con Paolo Corradin Salchi, un figlio di Producius, cerca di graduare, dopo il violento strappo, aveva addirittura l'undici. Mezzo miglio iniziale, se ne va in cinquantanove un battito, sedici e mezzo di tranquillità impiegata. Tenta la risavita a Universal Prior con il buon francese, ma intanto il leader riparte e mantiene il comando. Si timbra il chilometro, nell'ordine del quattordici e quattro, quindici e tre di frazione. Fanno fatica a risalire gli altri. A largo, cinquecento alla meta, si affaccia una Bigi King con il buon Simioli e aggancia Universo. Quattrocento alla meta, incisiva la Bigi del Simioli. Quattordici e uno, ventinove e mezzo, tre quarti di miglio. E quest'altra pure lei, Producius, a lottare con il fratellastro Universo, anche lui Producius. Si lotta, cavalli in dirittura con Universo, una Bigi, ma viene alla grande. Ursula con il buon Salvatore Mineo. Alla finestra, la cavalla all'alfiere dell'avvocato Gragnaniello. Si afferma nettamente, dieci, undici, quattro, due minuti spaccati, uno e quindici. Salvatore Mineo, alla grande, grazie anche al sempre prezioso team Minopoli. Ventitré e dodici la quota, indirittura spazia a piacimento. Pennellata del buon Salvatore Mineo con questa Ursula Fass, una bella figlia di Libeccio Griff, del team Minopoli, con Salvatore Minopoli, papà sempre dietro le quinte. Linea allo studio.